Ciao a tutti ragazze e ragazze, benvenuti e vedrete in questo nuovissimo video Oggi sono qui con un video specialissimo perché Perché è Fortnite a squadra e in pratica sto giocando con Garie, con tre miei amici, uno si chiama Gabriel, uno Filippo e uno Daniele Gabriel ha anche un canale YouTube dove si chiama il Bomber08 Cattivone E' andato da seguire, a mettere mi piace e a fare tante call Oggi giocheremo e cercheremo di fare vittoria reale Ragazzi siamo qua, nell'isola di Spau Raga dove andiamo? Io gioco da mobile ragazzi Allora dove andiamo raga? Dove andiamo? Andiamo a Borgo Vislacco Filo perché mi stai piccolando? Raga andiamo a Borgo Vislacco Questo qua che suona rotto però Cosa c'è Gab? Non era entrato in partita, Dani è abbandonato Dai ma Daniele non può sempre abbandonare Allora raga, io ho messo il segno Andiamo a Borgo Vislacco Ho messo già il segno Vi va bene? Non ci arrivo, anzi ci arrivo Ragazzi andiamo a Borgo Vislacco Tutti a Borgo Vislacco? Quanto è bella la discesa con i fiocchi di neve Raga come posso chiamare? Gabriele no per favore Gabriele ma c'è tantissimo gente Una cosa Una cosa Dai sarà un team Beh adesso stiamo a Borgo Sì Sarà un team Se non è un team È una persona o due Il punto è che Allora Rimaniamo tutti a Borgo Luttiamo quello che possiamo Appena luttato Ci ritroviamo tutti nello stesso punto Perché dobbiamo fare vittoria reale Sì vittoria mamma Non proprio vittoria reale perché è logicamente impossibile per noi Ma almeno Almeno arrivare quinti Non pretendo troppo Ma dai ma io ho una pistola verde Stiamo scherzando Dai almeno la safe è dalla nostra parte Siamo dentro la safe Perfetto Ah mi sta venendo ma nel collo a giocare così Mitraglietto compatto oro Non dimmi questa roba perché mi viene invidia Dai io ho una pistola verde Chi è che spara? Io controllo dalle finestre se c'è qualcosa Con cildini di tutta Io vado a prendermi la cesta Gabriel non andare alla lobby Oh mio dio mi sa per tutto Rimani qua Pozione da 50 Dai ma che schifo il vampo a fucile Yeah sono uscita Hanno suonato in casa mia credo Sì Prendi la munizione Bravo 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 Wish Chi è? Ciao figlio Adesso mi bevo questa pozione Ragazzi voi nei commenti scrivi Ragazzi nei commenti scrivetemi se avete fornite Se ce l'avete scrivetemi come vi chiamate così vi seguo e giochiamo insieme un giorno Però senza la sei colpi Sento spari Marti è più forte la sei colpi della pistola Mettivi la pistola Aspetta che la butto Vai 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 Perché ho sparato Cosa fa? Magari ma tu stai guardando me o Filippo? Ho visto Dai mi fa mai il collo non riesco a giocare Non so ma con questo visuale non riesco a giocare Perché sto giocando in un modo strano Per cercare di riprendere Perché sono da sola a riprendere Aspetta che mi sta Che mi sta alla Ma erano in due contro di me no Vai Filippo è l'ultimo rimasto di noi Chiali tutti Vado un attimo a bere Poi torno io Voi Filippo non morire che vado un attimo a bere Un'altra figlia un'altra Un'altra figlia un'altra Sì 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 vabbè Sì vabbè Aspetta Aspetta Vabbè Sì 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 raga che siete non ho visto cosa è successo perché ero ero a bere c'è un parco giochi ma perché dai uno ma se io mi vado a giocare contro di voi muoio sicuramente allora facciamo una cosa se facciamo una parco giochi le altre sono tutte squadre e però nella parco giochi non tutti contro tutti facciamo un tipo boh quello che volete bui il battle facciamo chi raccoglie più va bene gara di portini però le altre facciamo una sola di questo dai ho lagato la scrivania per la freccia io ho messo va bene metto subito vado a prendere un tovagliolo per asciugare che ho lagato la scrivania io ho messo pronto ma non mi viene la scritta no gabriel fiii forse perché non vuole fare marty lo facciamo aiutare no aspetta aspettiamo se poi vediamo che inizia a fare una partita andiamo io vado un attimo a prendere un fazzoletto per asciugare lascio qua a vedere ai fan cosa succede marty io mi unisco a gabriel tu ti unisci va bene si ma gabriel sta giocando perché non voleva farla parco giochi forse allora facciamo aiutare va bene allora filo e vi allora ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato scusate il casino ragazzi ma ecco ti chi è lì ah sono sempre io va bene metto parco giochi quindi ragazzi non so se avete capito in tutto questo casino che è successo tra gente che va gente che viene sto pensando anche daniele sta giocando però non ragazzi noi andiamo nella parco giochi e facciamo una gara di fortini cioè il fortini più bello vince però ce lo direte voi nei commenti noi costruiamo vi farò vedere tutti e due e poi ognuno ci dirà quale preferisce ovviamente non so dove andremo a costruire spero non pinnacoli perché a me pinnacoli fa laggare tantissimo ma non ho ancora asciugato la scrivania allora martin sì ascolta sì ascolta sì ascolta martin comunque non è di fortini è l'ultimo tra fortini dove andiamo non ho pinnacoli no a me lagghe io non riesco a giocare facciamo che andiamo qui anzi non andiamo dove c'è il laggo no vieni qua vieni qua vai lì che c'è che c'è che c'è un bel posto dove hai messo il segno sì che bello che va a buonatolo oh mio dio non si vedeva un cavolo dal telefono è difficile giocare dal telefono riprendendo con il telefono con un altro telefono riprendendo io faccio così così ci arrivo sicuro io sto ferma così così ci arrivo sì tu sei atterrato ti sei atterrato sì io no allora allora questo posto però è troppo bello allora non importa è pieno di aerei quindi io voglio fare una cosa prima di fare la gara di fortini vedi questo posto dobbiamo farci tanto motorione eh ho sbagliato no ma io ho già 63 di danno perché primo ho preso danno con dei cosi e poi sono anche caduta quindi dopo mi devo rigenerare un attimo la vita prima di inizi io faccio cadere una casa io faccio cadere un attimo Raga, vi stop un attimo il video Mentre c'è un materiale Poi ci vediamo Marti Ok, cosa c'è, Filo? Ok, ragazzi Aspetta, Filo Aspetta, allora, raga Io ho appena finito Aspetta, Filo Ho appena finito di fare 999 di tutti i materiali Adesso, cosa c'è, Filo? Comunque Iniziamo già a costruire Sì, ma c'è Daniele che ci aspetta nella roba Vi fa lo stesso, andiamo Dove ci mettiamo a costruire? Ti posso chiedere una cosa? Tu in pratica è una lotta fra fortini Quindi in pratica Noi costruiamo il fortini E dopo ci sfidiamo sopra Ah Non credo di poter Di avere possibilità di vincere Ma chi se ne frega Ci voglio provare perché è divertente Allora, ragazzi Noi andiamo a iniziare a costruire Scusa Ah, sei là in fondo Va bene, vengo anch'io Faccio il primo se salterro Iniziamo Con che materiale costruiamo? Con quello che ci piace di più Va bene Aspetta che devo trovare un posto dove mi fa... Ecco qui Non posso farlo largo quanto vogliamo, vero? Sì, ma non troppo Io lo faccio largo quattro È un po' troppo forte Va bene I ragazzi vedono cosa sto costruendo Tu no È bello, così non ci possiamo copiare Ting ting Ho sbagliato Ting Il problema sarà quando dobbiamo iniziare No, sbagliate Piazzare un muro Ragazzi adesso stoppo Poi appena vedo che sono ad abbastanza bel punto Vi faccio rivedere Comunque ragazzi Se non me ne eravate accorti Siamo solo in due Poi Adesso sono a questo punto qua Sì Sono partita da quattro per quattro Ma Voglio dire da due per due Ma adesso sono diventata Uno per uno Eh sì Non chiedetemi come Ma Sì Sto facendo la piattaforma Per poi riuscire a mirare Perché Come avete visto Io come armi Ho un cerchino termico E un vampa fucile Quindi devo Faccio la piattaforma Per poi dopo Mettermi in comoda E spagnare Ma tutti stai avvicinando troppo Ma se sono andata avanti Di un solo blocco A te Poi tu sei anche Più in alto Quindi sei più vantaggiato Tu sei più in alto Quindi sei più vantaggiato Sei più in alto Di un blocco Di un blocco Per me io perdo Ma non importa Dopo per abbiamo finito Di scontrarci Torniamo alla lobby A giocare Boh tipo a squadre Se troviamo qualcuno Che vuole giocare con noi No Ah Per fortuna Ma no Non ce l'ho pensato Dove sono ecco La pallina Con scritto GG Poi vedete Facciamo anche Puppazzo di neve Così ragazzi Vedete bene Tadà Filno Non puoi Dai No volevo Adesso sparavo E poi dobbiamo Cambiare squadra Ma no Adesso Non adesso Perché se no Io rischio di spararti Visto che prima Ho sparato anche Dei colpi a caso Rischio che se ti miro Poi Succede un guai Ti ammazzo Quindi Perché sei morto Perché sei morto Non sono morto Ho cambiato squadra Ah Ragazzi Adesso poi Io noto una ripresa Poi appena tutti I due fortini Sono completi Vi faccio rivedere Allora ragazzi Alla fine Non siamo riusciti A fare la lotta Tra fortini Perché il mio amico Ha dovuto quittare Perché si è fatto tardi Per lui Perché Adesso sono le 21 e 38 Anche se sono le vacanze D'inverno Però Deve andare a letto Quindi spero ci sia qualcun altro Lai Ma Oh porca Guarda quello che ho visto Sì ci sono Vediamo Ok Siamo con Gabriel Siamo con Gabriel Ragazzi Invitiamo casomai anche Dani Se vuole venire Ciao Gab Ciao Dani Ciao Gab Io sto ancora registrando Comunque Perché Gabriel Non Ecco Allora Fra Matt Gabriel Hai invitato Un tuo amico Gabriel Ma Fra Matt È un tuo amico Perché Perché Gabriel Non mi risponde Gabriel Metti pronto Su Gabriel Metti pronto Ecco bravo Sì Marti Cosa c'è È un mio amico Quello lì Lo so Ma io sto ancora riprendendo E questo è il punto Dani Dani Facciamo vittoria reale Vittoria Per favore Per favore Per favore Per favore Sì Adesso siamo forti Sì Biscotto dietro dietro la schiena E adesso Ho 8 dietro la schiena Ho biscotto Ah ok Ho preparato 8 dietro la schiena Lo vedi? Oh mio dio È impossibile Mettete pronto Io ho messo pronto Tutti abbiamo messo pronto Gab Proviamo a togliere Ok 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 Mettiamolo È di torsette Lo devono togliere tutti Eh vabbè Non ci sente lui Ti nomino leader Perché è un bug Ti nomino leader Eh lo so No è Gabriele Lo so Lui Bugg No No dovrei bandare In tua utilità Sì Hai soldato Ne vischio È stata roba Fino parte Gab 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 Cosa c'è Gab Sto ancora riprendendo Tantano anch'io E poi ti rinvito Ok Ragazze Sta succedendo Un caos Non preoccupate Mi invita Gabriel E poi accetta Dobbiamo fare Un po' Di cambi Accetta Ecco Zani Devi entrare Ma Daniele Non ci sente Invitalo Invitalo Marti Invita orsetto Eccolo Io l'ho messo Oh no Accidenti mi dispiace Ma la tua versione di gioco È fuori sincrono rispetto a quella del tuo gruppo Se il problema è ripresentare Riavvia Fortnite Comunque non è a me il problema Forse anche a voi Non si sa Comunque Adesso È andato storto Aspetta Per tu cazzi Siamo andato storto E' andato storto E' andato storto Ok E' andato storto 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 Ma giochi bene Marti Si sto andando Non bagliamo Non bagliamo Non bagliamo Basta Non mettiamo pronto Mettete il cerchio Ragazzi Ragazzi vado a giocare con il mio cugino Gabriele siamo arrivati solo io e te Cosa facciamo? Ecco Marti invitafi Ok E non me lo fai invitare? C'è dopo Va bene dopo Va bene dopo Si arrangia poi Ma infatti Accidenti ci dispiace Ma che pascoli Gabriele invita nel mio gruppo Tu invito a Marti Marti Ok Marti ha capito? Si ho capito tutto Ma Gabriele il problema è che sto ancora riprendendo io E vai riprendi Eh sto a riprendere però non dirlo a nessuno è un segreto Tipo prank Però fa lo stesso Ragazzi non so se avete capito adesso Gabriele ha cambiato il gruppo Poi Gabriele inviterà a me Poi perché sta succedendo un po' di cose con i server Con queste robe qui Ci sono La tua versione del gioco fuori sincrono rispetto a quello del tuo gruppo Eeeh Dovevi mettere il tuo? Rispetta un attimo Togli pronto Gabriele Proviamo a mettere pronto tutti insieme Non me lo fai togliere ma Quindi il mio va bene Mettete pronto voi due Che due scatole Marti metti pronto Ok No io l'ho schiacciato ma non mi viene la scritta pronto Sì 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 Il band del leader devi mettere un altro come leader Va bene Chi è leader? A me non mi fa muovere il joystick Non mi fa muovere più il joystick Non riesco più a muoverlo Ok No Raga Altro che giocare passando tutta la sera così Marti Cosa c'è? C'è Mickey online Davvero Davvero Invitiamo Mickey? No ma a me dice che Boh a me Michele dice che non è online Oh raga E riavviamo fortnite Tutto No A me no it non mi fa muovere il joystick E che uno di noi tre Tiene questo problema qua Tiene uno di noi tre A me non mi fa muovere il joystick Proviamo tutti ad uscire da fornite Per rientrare Ok Allora ragazzi non so se avete capito ma è successo un po' un problema In pratica c'era uno di noi tre Perché non aveva in tre Aveva un problema del gioco E quindi non lo faceva caricare a tutti Il punto è che adesso tutti abbiamo spento del tutto E adesso lo stiamo riaccendendo Per poter giocare Perché il problema adesso sarà andato via No Io non ho l'amicità di Framato 009 Però l'ho invitata a Gravel Non importa Poi dopo lo aggiungo come amico di Epic Ma non importa Il punto Ehm E questo che ci vuole tanto da aspettare Quindi bis dopo Poi appena siamo tutti già riuniti Faccio ripartire la registrazione Ragazzi Beh lo giuro Non so da quanto tempo è Che io sto aspettando Ed è la schermatizzare così Perché abbiamo spento per un problema E adesso è così Io cosa dovrei fare? Wee forno Non ce la posso fare Devo aspettare tantissimo tempo Ci vediamo dopo se riesco a caricare tutto Insieme a Framato e a Gabriel Dopo un bel 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 po' Sono ancora qui che aspetto che si carichi Qua c'è qualche problemino In Fortnite Yeee Inferno Scusate ragazzi Se il video deve qui Ocludersi così Ma Fortnite Non partiva più Si E Ero successo in vari casini Anche se volete Avete fatto un video di Fortnite Lasciate un bel pollice in su Andatevi a iscrivervi al canale Del mio amico Il bomba 08 Cattivone Mettete like A tutti i video Mettete like Anche i video Adesso E un bacione a tutti Ciao Mettete a iscrivervi al canale